In ordine come da programma, cominciando da Cicoletti. Azio Electric appartiene a livello europeo, aderisce ad Euroelectric e di recente ha pubblicato una presa di posizione sul tema delle smart grid in cui invitava a mettere l'adeguata attenzione sul fatto che il distributore sarà il volto delle tecnologie smart nei confronti del cliente finale nei prossimi anni e questa è sicuramente un'osservazione interessante. L'altro spunto che veniva proprio al termine della precedente tavola rotonda era che poi ha anche a che fare col tema del finanziamento, della regolazione e dell'incentivazione, è attenzione a non creare stranded cost e comunque investimenti non necessari, quindi io ho sentito il vostro Presidente Chico Testa a volte proprio mettere in guardia da questo genere di rischio, facciamo quello che serve ma non incentiviamo e investiamo indiscriminatamente gravando sulle tariffe su cose che non servono, quindi chiederei un commento su queste cose. Sì, grazie. Partirei dall'ultima osservazione, da quello che dice il Presidente Testa. Normalmente il tipo di intervento si inquadra in un dibattito un po' più ampio che semmai ci riporta all'ultima osservazione che ha fatto Molè su problematiche relative a un dibattito sull'eccessivo investimento in capacità produttiva. Qui c'è stato anche la nostra Assemblea che abbiamo avuto la settimana scorsa o due settimane fa adesso. La settimana scorsa abbiamo anche un po' di polemica con qualche rappresentante istituzionale su di chi fosse la responsabilità se non la colpa etica ed eccessiva capacità produttiva di oggi. Direi che partendo da quelle osservazioni ricordo solo che è possibile che la paura del blackout del 2003, teoricamente causato da un albero, se vi ricordate, secondo alcuni almeno, portò a uno sviluppo degli investimenti però la legge che sbloccò quegli investimenti era precedente e forse tutto il mondo e tutta Europa fu presa da un bagliore improvviso però sia a livello Italia sia tutte le previsioni di sviluppo del consumo elettrico e quindi della capacità di potenza produttiva anche per coprire la potenza alla punta indicavano allora una produzione che certamente non è coerente con le aspettative di consumo a fine 2013 che oggi ci parlano di livelli che sono di circa 12 anni fa, parliamo di 290 teravattora, che coniugati con una certa inerzia dell'import e un'esplosione delle fonti rinnovabili ovviamente danno tutte le difficoltà che si conoscono sul settore termoelettrico in generale, questo è prescindente che siano associati al suo elettrico o meno con tutta la difficoltà di remunerare investimenti, ma qui ci andiamo oltre. Questo è sicuramente uno dei motivi di riferimento ma sul tema di oggi il problema semmai io lo vedo come ci è stato presentato nella seconda tornata di domande e cioè a che cosa servono le smart grid o comunque un atteggiamento di una smart utility? Servono per evitare che gli investimenti per affrontare le nuove richieste da parte del consumo, che non sono solo richieste in termini di energia e quindi di servizio elettrico, ma sono richieste di tutta altra notura, non portino dietro un'eccessiva, un proliferare di investimenti che probabilmente è inutile. Il riferimento ai punti di riscaldamento elettrico comuni in tutti, in buona parte almeno, dei parcheggi privati della Scandinavia, inevitabili se si vuole riprendere la macchina il giorno, la mattina, ogni mattina d'inverno, è evidente, è abbastanza chiaro che è necessario e quantomeno opportuno evitare di raddoppiare investimenti o comunque modificare l'attuale capacità della rete di distribuzione quando si può fare riferimento, si può far fronte con altri sistemi. Qui mi leggo in parte a quello a cui si è già legato il collega di A2A precedentemente e cioè, o forse anche lo stesso con lei, su qual è il driver principale dello sviluppo delle smart grid. Anch'io non sono molto d'accordo sul fatto e quindi do ragione alle preoccupazioni di chi mi ha preceduto sul fatto che siano le fonti rinnovabili intermittenti. Le fonti rinnovabili intermittenti sono il secchio che ha fatto traboccare la vasca più che la goccia rispetto al vaso, perché l'esplosione soprattutto del fotovoltaico, perché del fotovoltaico si parla di esplosione, quello dell'eolico è stato uno sviluppo abbastanza, l'avete visto dallo slide precedente, è stato uno sviluppo abbastanza lineare, ha portato al problema di gestire, l'urgente problema di gestire una rete di trasmissione e di distribuzione soprattutto in maniera più proattiva, in grado di gestire flussi di entrate e di uscita. Ma il problema reale che è stato posto in evidenza anche nell'ultima assemblea di Euroelectric, l'annual convention che abbiamo ottenuto a Bologna in occasione del cambio di presidenza dal dottor Conti a Tyson di Eon Germania, è evidente, l'utility si sta affrontando la necessità di far fronte la cacofonia a un nuovo modello di consumo che, da parte del consumatore finale, soprattutto se parliamo a livello di domestico, che è completamente diverso da quello che era prospettabile dieci anni fa e che va via via cambiando e che è basato non su un consumo di energia ma su una richiesta di servizi, richiesta di servizi che non sono necessariamente remunerativi per chi è in grado di offrirli e qui parliamo dal nostro punto di vista, quindi dal punto di vista degli utility e quindi entriamo nel discorso della necessità di individuare degli strumenti di remunerazione della capacità di offrire servizi e di andare incontro ai consumatori che siano effettivamente remunerati, se no arriviamo alla problematica che veniva evidenziata da chi partecipava alla tavola rotonda precedente e cioè che certi investimenti non hanno motivo di essere almeno dal punto di vista del mercato diretto tra rapporto tra chi offre il servizio e chi lo consuma. Hanno motivo di essere dal punto di vista degli obiettivi nazionali che sia l'efficienza e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, hanno motivo di essere dal punto di vista dell'onerosità che il Paese può affrontare perché magari fallisce gli obiettivi di sviluppo dell'efficienza o di incremento dell'efficienza ma non lo hanno dal punto di vista di chi sta sul mercato. In realtà non stiamo affrontando cose incredibilmente mostruose, secondo me 15 anni fa si affrontava con questo tipo stesso di problematicità il problema di sviluppare un sistema di gestione attiva della richiesta di energia che fosse non soltanto consuma, fosse anche diminuzione dei consumi e da questo punto di vista si andasse nella remunerazione dei distributori e questo è avvenuto anche con i certificati bianchi, per cui strumenti per affrontare le modifiche di karma, permettetemi di usare questa parola, le modifiche di impostazione del business esistono. Per chiudere, venendo a una risposta sulla domanda, è chiaro che bisogna evitare che gli investimenti siano eccessivi perché se già non sono remunerativi oggi con le attuali prospettive, cioè di fronte a un quadro di regolamentazione che probabilmente ancora non è adeguato e soprattutto non è adeguato per quello che deve cercare di offrire l'utility del futuro, è chiaro che a maggior ragione non possiamo renderli eccessivi. Qual è il problema? E poi chiudo perché ci sono molte persone che qui vogliono intervenire sicuramente. Il problema è che è abbastanza ormai evidente e questo se volete ce lo hanno messo davanti agli occhi chiaramente non soltanto i gruppi di lavoro o chi ha affrontato in via teorica l'analisi dello sviluppo del mercato a livello europeo ma anche i grandi consulenti, penso a Pricewaterhouse, penso a Accenture, penso ad altri operatori che hanno, a grandi società che stanno cercando di vedere la vision oltre il 2020 dell'utility. Il problema è che fondamentalmente stiamo andando verso un sistema in cui l'utility non può pensare di offrire solo energia ma deve pensare di offrire servizi e questa è una risposta ovviamente proattiva, ovviamente di natura privatistica, business oriented, al fatto che si sta perdendo nella catena del valore importanza sulla fase di generazione e si sta creando valore come è giusto che sia, su altre fasi che sono quella della gestione intelligente e della potenza di quella che oggi chiamiamo potenza disponibile a casa, del fatto di poter gestire strumenti che vanno dalla domotica fino semplicemente alla gestione di quando c'è il carico, fino alla gestione della coibentazione della casa e quindi all'efficienza energetica dell'appartamento, pensate alle finestre intelligenti semmai ci si arriverà in un paese che ha una struttura abitativa abbastanza vecchia, fino alla gestione attiva del vehicle to grid e quindi non è soltanto in carico ma è scarico e quant'altro. Da questo punto di vista il business dell'utility sta cambiando, occorre ovviamente modificare come si fa il mercato e più in generale, e veramente qui mi taccio, tutto ciò non credo che debba sorprenderci perché secondo me sono 12 anni, 15 anni che il giudizio sulla performance del settore si è spostato dall'unico riferimento che forse è il prezzo, 30 anni fa si parlava solo di disponibilità di energia elettrica, se vi ricordate lo sviluppo del settore elettrico importantissimo in Italia è nato quando era necessario assicurare la fornitura di energia elettrica a tutti i cittadini barra residenti, tutti coloro che abitavano in Italia. A un certo punto si è iniziato a discutere del livello del prezzo e con diversi artefici, e qui non entro sul dibattito che c'è stato pure nella nostra assemblea su quale fosse, dove si è spostato il valore, si è riusciti a portare il prezzo verso il basso e in mia opinione che comunque il mercato elettrico degli ultimi 12 anni ha aiutato a mantenere un certo livello di competitività, a questo punto avuti questi successi si è posto al di là la barriera. La barriera è stata diminuzione dei consumi, efficienza e prima ancora è stato impatto ambientale. Va di moda parlare di cambiamento climatico perché è sicuramente meno bello parlare della riduzione delle emissioni inquinanti, di diminuzione di mortalità e di morbidità. Quando il settore cambia criteri di performance non può che rispondere cambiando condotta a fronte anche di quello che è la necessità di modificare la struttura del settore. Il senso di questa seconda tavola rotonda è offrire dei punti di vista di soggetti diversi da quelli che propriamente investono e sviluppano le smart technologies e le smart grid che erano le persone che hanno partecipato alla prima tavola rotonda e in qualche modo cercare di far emergere cosa altri soggetti che operano nel settore dell'energia chiedono o si aspettano o ritengono sia opportuno aspettarsi da questo tipo di tecnologie. Dario Di Santo, il FIRE si occupa molto di analisi in tema di efficienza e di tecnologia. Cosa dobbiamo chiedere alle smart grid e alle tecnologie smart? Io penso che il problema non sia tanto cosa chiedo alle tecnologie ma cosa chiedo alle persone che poi vanno a usarle queste tecnologie perché se no ho il rischio che rifacciamo l'esperienza degli smart meter per il settore residenziale che di per sé sono molto smart ma nella pratica nessuno non le ha mai usate come tali tanto che ancora oggi ci sono dei contesti in cui la prima ovvietà dello smart meter, la telelettura non viene usata e uno deve stare lì a comunicare la misura del contatore che è una cosa che se vogliamo dopo dieci anni dall'avvio della trasformazione fa un po' ridere e questo vale secondo me per tutta la trasformazione dello smart grid o dello smart cities o di tutto ciò che è smart. Il problema vero è cercare di capire ma a noi qual è l'intelligenza che ci serve? Stamattina sono stati fatti tutta una serie di esempi, c'è un'intelligenza che serve al distributore in quanto tale che si trova a dover vedere dei flussi di energia molto diversi dal passato con tecnologie di generazione distribuita, una parte delle quali non sono programmabili, sono soggetti a delle variazioni molto veloci della generazione, pensiamo al fotovoltaico coperto dalla nuvola di passaggio e che quando è qualche megawatt non è esattamente una trasformazione da poco, dall'altra abbiamo il consumatore, consumatore che si trova di fronte a una complessità crescente, stamattina si è parlato, il consumatore è un po' pigro, non fa il cambiamento, ma grazie che è pigro, cosa ottiene in cambio del cambiamento? 10 euro di risparmio all'anno? Quanto deve studiare per capire il meccato elettrico? Gli costa 100 euro, 200 euro per risparmiare 10 euro l'anno e quando ritorna dall'investimento, mai, per di più in un contesto in cui non sono mancate le truffe insomma da parte di alcuni soggetti poco responsabili, è normale che il consumatore non si sposta in queste condizioni, qualcuno ha fatto, io l'ho fatto, però vabbè non fa adesso, ci capisco qualche cosa da questo punto di vista e non lo fa anche paradossalmente laddove l'offerta è, ti offre uno sconto fisso rispetto a quello che è la tariffa del mercato vincolato, per cui è ovvio che c'è uno sconto, non posso rischiare qualcosa da quel punto di vista. Nello stesso tempo sto parlando, se il consumatore è piccolo, di un qualcosa che è diverso dal cellulare, prima si è fatta l'analogia giusta col fatto, anche con la telefonia, ci si è trovati di fronte allo stesso problema, ho un qualcosa che all'inizio capisco poco, ma poi il consumatore si abitua, cerca di capire il problema delle tariffe che variano, notte, giorno, telefono solo a quelli che hanno il mio stesso fornitore, provider, telefono solo al numero X e via discorrendo, ma l'ha fatto perché il cellulare ce l'aveva nelle mani tutti i momenti, il contatore per fortuna no, quindi c'è un problema, io gli devo mettere il contatore davanti se voglio che lui sia in qualche modo stimolato a capire il contatore. Quando si avviò l'installazione dei contatori intelligenti, mi ricordo c'era lo stand dell'Enel che aveva avviato la trasformazione, andò a parlare con loro e dissi, bello questo contatore, ma io sto in un condominio e il contatore sta in cantina, e come lo leggo il contatore intelligente? Devo scendere in cantina? Dice sì, però poi forse noi metteremo a disposizione un sistema a parte, a pagamento, che te lo fa leggere in casa. Dico, va bene, già partiamo male se è questo il criterio, ma non partiamo male dal punto di vista di business, perché la logica ti offro dei servizi aggiuntivi sarebbe più che giustificata, e che è rimasto il fatto che la misura è in mano a un distributore, il quale distributore è un soggetto regolato, un monopolista naturale, e non sarà mai lui a mettere in moto certe trasformazioni, perché non lo può fare, semplicemente quello discorso. E quindi paradossalmente la misura che il principale driver, in un'ottica di collegamento con l'utente, di ciò che è smart, non si è mai sviluppata. Abbiamo fatto un anno e mezzo fa una indagine col Sole 24 Ore sugli energy manager e le varie trasformazioni negli ultimi anni, e uno degli elementi che molti hanno notato era proprio questo. Non c'è un servizio di misura adeguato, nessuno me lo vende, che sia il fornitore che sia il distributore, passando per il fornitore, non c'è questo. Ma allora è chiaro che la misura è la chiave per poi vendere tutto il resto. Oggi tutti i fornitori stanno cercando un po' per volta di arrivare a dire, così come il venditore, il provider telefonico, ora il business lo fa perché ti dà il cellulare con l'abbonamento, che è sempre più lungo, notate, perché il cellulare costa sempre di più, perché è smart. E così anche lì la logica dovrebbe essere la stessa, non ti vendo l'energia, tanto ormai immagino quelli che sono, ti vendo qualcos'altro, ad esempio l'efficienza energetica, ma possono essere anche altri servizi. E beh, ma se voglio vendergli quello, l'efficienza è complicata, devo partire dalla misura, se no che gli vendo. Se non ho la misura, mi manca il driver del cash flow, dell'investimento in efficienza, differenza fra consumi ex ante e consumi ex post. E quindi capite che si è perso un'occasione per dieci anni, che adesso si cerca di recuperare, ma le dinamiche di mercato non sono le stesse, i soldi a disposizione degli utenti non sono le stesse, quindi il problema è sempre chi paga questa trasformazione smart. E ha maggior ragione, io devo fare in modo che oggi questa trasformazione sia accompagnata da dei benefici concreti. I benefici ci possono essere, non è che non ci possono essere. Quello che conta è, l'hanno detto chiaramente anche stamattina nella tavola rotonda precedente alcuni, te lo conosco di noi, un po' per volta cominciamo a costruire, cominciamo a sviluppare progetti pilota, cominciamo a vedere che succede, partiamo non troppo veloci perché se no il rischio è che prendiamo una cantonata come è successo nell'esempio della generazione termoelettrica o delle rinnovabili viste prima. Quello che conta è che vediamo che succede. A me fa, ieri il Papa è andato a Lampedusa e si è messo a dire una serie di cose, no? Ha detto poi siamo tutti noi che qua siamo in una, se vogliamo, globalizzazione de-responsabilizzata, nel senso ognuno ormai va, fa e che ci importa? Nessuno si mette lì a dire scusato o sbagliato, non è il problema che lo dobbiamo lapidare, tutti noi sbagliamo continuamente, il problema è che se io non dico mai che ho sbagliato, continuo a sbagliare sempre di più, perché viene a mancare il problema fondamentale. Noi abbiamo adesso un ministro che va in giro a pontificare sugli sfracelli degli incentivati rinnovabili, stesso ministro che era il principale sensore del coma fotovoltaico sul Stato Valcoa, scusami eh, ma dopo il danno che hai creato a tutto il sistema Paese, puoi dire scusate è colpa mia, non perché ti devo venire a tirare le pietre, ma perché magari capiamo che sono stati una serie di errori, uno dopo l'altro, che hanno creato il problema. E uno degli errori se ce lo siamo risparmiati solo perché è arrivato lo tsunami in Giappone, non scordiamoci, non è perché pure là si era pronti a fare investimenti che si sapeva già per come era ormai strutturato il mercato domanda-offerta che sarebbe stato un altro bagno di sangue senza nessun beneficio per il sistema Paese. E' proprio questo il problema, se non ci fermiamo un attimo a dire, vabbè, adesso mettiamo le smart grid, mettiamo i sistemi intelligenti, la tecnologia ci aiuta, no? Principale driver sono proprio i soggetti che promuovono la tecnologia. Abbiamo i distributori che chiaramente sono chiamati a fare la trasformazione principale, a mettere i soldi inizialmente, ma che non sono il soggetto a cui interessa di più la trasformazione. E' chiaro che ci vuole sinergia fra i vari soggetti ed è chiaro che dobbiamo sfruttare al meglio, questo di cui ci parlava Marcello Capra prima, per fare le trasformazioni sui piccoli passi, sui progetti pilota e quant'altro. Però dal punto di vista dell'utente, chiudo qua, il vero problema è oggi, se voglio sviluppare dei nuovi modelli di business e le nostre redi intelligenti devono servire proprio a questo, aiutare lo sviluppo di questi nuovi modelli di business, vuol dire che devo sfruttare al meglio quello che la tecnologia oggi mi offre. Quindi sfruttare già quello che ho installato e cominciare a sviluppare dei servizi agli utenti che siano in grado di fargli avere quei benefici che può avere, ad esempio in termini di efficienza energetica. Uso la misura per farti avere un servizio, magari te lo faccio pagare in bolletta, domani stai meglio, risparmi sull'energia e da quello anche io fornitore ho un servizio. Quindi un gioco in cui il distributore, il fornitore e l'utente devono andare avanti di pari passo cercando un beneficio comune. Grazie di santo. Nicola Eusepi, presidente di Asso Consumatori. Negli interventi precedenti, sia da prima o da tavola rotonda, Cremaschini solleva il problema delle competenze, l'esigenza di nuove competenze molto specifiche che nasce nel mondo in cui ci stiamo introducendo. Anche di santo citava la figura degli energy manager, se lo sbaglio la vostra associazione si occupa anche di questo, di certificazione di competenze e di formazione. Pronto? Buongiorno. Tanto ringrazio Business International, aziende sponsor, la dottoressa Beeman per l'impegno con cui stanno portando avanti questa serie di forum e di summit, perché è un tema talmente importante, centrale, questo del smart grid, che effettivamente la continuità aiuta. Quindi già la terza o quarta volta intervengo e posso sviluppare un discorso. Avevo preparato delle slide, ma purtroppo a proposito di smart grids, pad, software, eccetera, le slide qua non ci sono arrivate. Grande, costano un sacco di soldi e poi quando ti serve non funziona. Questo è drammatico, perché oggettivamente poi uno si arrabbia. Ho visto un bellissimo film ieri sera con Paul Newman, che è una cosa meravigliosa, secondo me è un'immagine cult. In questo film lui era anziano e doveva accendere una lawnmower, cioè una macchina per tagliare l'erba. Quanti di noi si sono trovati a... non dico cosa dire perché non parte, no? Allora si vede lui che cerca di far partire sta macchina, poi si vede sparire dall'inquadratura, torna con un fucile a canne mozze e spara su questa macchina. Ecco, la violenza nei confronti dei sistemi che non funzionano è artistica in questo caso, però oggettivamente diciamo che tutti gli interventi di oggi hanno posto l'accento sulla straordinaria opportunità, ma anche sulla grande incertezza che vivono tutti gli attori della filiera. Noi 15 anni fa ci siamo posti il problema e voi vi direte ma perché 15 anni fa? Già vi era chiaro che c'era un problema nel settore mass grid, perché c'è un problema Italia. Cioè l'Italia è costituita da uno e quindi intanto vorrei come dire rettificare il concetto oggi espresso di consumatore perché in realtà è molto meno importante il consumatore come così normalmente si intende piuttosto che le 10 milioni di partite IVA che costituiscono l'ossatura di questo Paese e che di fatto sono come consumatori finali perché o sono famiglie o sono piccolissimi gruppi e sono i consumatori finali più strategici del Paese. Allora noi 15 anni fa ci siamo posti di questo problema, se tu da una parte hai grandi imprese perché le utility sono gestite da grandi imprese con grandi infrastrutture e grandi apparati e dall'altra hai quello che da sempre si dice una polverizzazione di territorio dove tu non riesci mai ad aggregare la domanda ed ecco tutta la discussione sulla domanda di oggi che non arriva mai a nessun capo. E ringrazio comunque chi ha fatto il precedente intervento perché ha colto perfettamente il disagio del consumatore e lo ha espresso molto bene. Come può un sistema di utilities offrire servizi a valore aggiunto che richiedono progettazioni costose e molto mirate cioè su un target e un tipo di cliente che è in grado di esprimere una domanda sufficientemente aggregata da poter consentire un rivestimento su un servizio ad alto valore aggiunto. L'Italia non c'è, in Germania sì, in Francia sì, in tutti gli altri paesi c'è il soggetto, la media impresa italiana, cioè tedesca è la nostra grande impresa tra un po'. Cioè abbiamo un contesto europeo che è in grado di avere questo tipo di target e l'Italia non ce l'ha. Quindi noi ci siamo posti, quando cominciarono a uscire le liberalizzazioni di tutti i servizi, le autorite, e qui hanno cominciato a vedere le prime cose storte, abbiamo detto capiamo il nostro paese che ci sembrava la cosa diciamo immediatamente più importante. Allora siamo andati a rompere le scatole alle ISO, un'intuizione. dice scusa ISO ma tu che organizzi con... oggi stanno a 1900... no, 19.500 disciplinari per 19.500 operazioni. Dice ma come mai tu organizzi l'intero... perché sappiamo bene che le grid sono impensabili senza un sistema fortemente standardizzato, ma direi anche perché è stato citato con una gestione del knowledge management avanzatissimo e distribuitissimo cosa che non esiste in Italia neanche a livelli centrali, ma figuriamoci a pensarlo distribuito. Ma non per colpa nostra. Noi abbiamo una struttura paese con una distribuzione reale di knowledge pazzesca. siamo il paese che ha inventato tutto nel secolo scorso, ma non è standardizzata perché la piccola impresa non è standardizzabile. Ecco la chiave. Non riusciamo ad aggregare la domanda perché la piccola impresa è competente fuori standard. E senza standard tu la domanda oggi organizzata non la fai. Ecco perché andai dalle ISO e dico scusate ma voi ce l'avete... voi avete una norma delle 1950 per certificare un addetto, una professionalità. dico sì, andai a Confindustria, dico ah bene, quante ne avete certificate fino a oggi? Dice abbiamo fatto 2000 certificati. Dico come è possibile? Dice sì perché noi facciamo solo i certificatori. Allora io gli dissi ma se invece di fare 2000 certificati voi ne faceste 10 milioni vi piacerebbe? Saltarono sulla sedia e partì un percorso legislativo, su una nostra intuizione, cioè di dire c'erano una serie di condizioni che si assommavano a questo. Perché ecco cos'è il discorso delle grid. O parte prima come grid sociale o parte prima come grid che riesce a convogliare gli interessi di una serie di stakeholders. I stakeholders prima devono convogliare i propri interessi e poi fai la grid. Non è il contrario. Mentre il sistema tecnologico penserebbe che cala la grid sul nulla. Allora noi che per storia abbiamo questo lavoro di aggregare le varie stakeholders abbiamo trovato decine, veramente erano qualche centinaio, noi abbiamo dialogato con la decina, di associazioni di professioni non regolamentate in Italia, cioè che chiedevano un riconoscimento dello Stato da decenni. Lo volevano fare per via pubblicistica. diventai vicepresidente dell'ente che doveva certificare queste professioni e gli dissi le ISO mi hanno detto che lo possiamo fare. Niente legge, non ci serve la legge. La legge non certifica una professionalità. Lo facciamo con le ISO. La legge è passata a gennaio. È una rivoluzione mondiale. Perché le ISO non ce l'hanno nella loro meraviglioso sistema standardizzato che quando fa un manzionario, il manzionario deve essere in testa a una persona anch'essa certificata. E l'Italia che ha di alla parte sua soltanto le professioni perché non abbiamo materie prime, il solito discorso ci facciamo sempre, abbiamo la grande testa degli italiani, ha portato al mondo un modello con questa legge. Ve lo posso esplicitare meglio perché è chiaro che se fai una norma in Italia, la norma uni dopo cinque minuti è tradotta in inglese e poi tutte le lingue. È mondiale. E l'Italia è il primo paese che ne ha fatto una legge, cioè riconosce le professionalità che si certificano uni. E tra i primi è curioso, sì ci sono anche i fiscalisti e altri soggetti che comunque sono importanti per le filiere aziendali, c'è il naturopata. Diciamo, madonna, il naturopata. Cosa c'entra con le smart grid il naturopata? Ma in Italia sono molti milioni gli utenti di naturale, molti milioni. L'ONU dice a tutti i paesi del mondo da 40 anni che devono sviluppare il naturale in funzione anti-intossicazione da farmaco, prevenzione, eccetera. C'è un universo di utenza scordata che oggi non sa a chi rivolgersi. Bene, l'Italia dà al mondo il naturopata. Ora, per una volta che l'Italia avanti, io lo volevo portare qui questo concetto. Questo concetto al di là del minuto che mi sta dicendo il nostro moderatore. Se io faccio in ogni piccola impresa un utility manager certificato, lo sapete cosa vuol dire? che intanto prendo quel certificato e lo porto in banca e l'azienda prende soldi perché quello va nel risk management di Basilea, nessuno ci ha pensato. Prende soldi dalle banche. Quindi motivo l'azienda a farlo perché, come avete detto voi, ci sono tante cose intelligenti che non si fanno perché non sono redditizie. E io ho 10 milioni di partite, io vado a motivare. Dopodiché vado su un distretto industriale, tra l'altro i distretti rossi sono specializzati. Prendo l'utility manager di unione di queste aziendine che è in certificazione, quindi lo abbiamo sotto un faro di formazione permanente e continua e gli faccio incontrare tutte le imprese. Faccio un grande gruppo d'acquisto iper specializzato. L'impresa può investire. Ma questo modello che nasce in Italia perché noi avevamo il problema è un modello che va bene per il mondo. Perché la grid ha un problema grosso, i monopoli. Il monopolio non vuole la grid. Cioè ha difficoltà per la sua strutturazione e il mondo, non cantiamocela con la liberalizzazione, più ha fatto liberalizzazione più ha confermato monopoli nel mondo, dalle banche a tutto il resto. La grid confligge totalmente, la grid è partecipazione di tutti gli stakeholders, tra l'altro il primo livello oggi è stato citato è barter, cioè ci scambiamo qualcosa e stiamo in rete. Poi va tradotto in economia come giustamente dicevano i fornitori. Quindi aver trovato la chiave a noi ci ha portato e concludo a promuovere una fondazione. Vabbè, ieri il Pava l'ha detto, ma noi l'avamo pensato qualche mesi fa, che si chiama Global Ethics. Cioè il Pava ha detto che dobbiamo fare che anche l'etica sia globale insomma, no? E l'etica non è la morale, attenzione, l'etica sono proprio le regole. Che noi italiani portiamo una regola in più alla standardizzazione, senza la quale non si fanno le grid. Cioè le persone, la distribuzione del knowledge incardinata sulla standardizzazione. Grazie. Bene, grazie Eusepi. Carlo Drago. Tutti i temi, moltissimi per lo meno dei temi che abbiamo sollevato oggi, implicano una necessità di gestire moli di dati colossali. nel senso tenere sotto controllo i flussi bidirezionali dell'energia sulle reti di distribuzione in presenza di una forte quadra di generazione distribuita, ma anche la possibilità per il consumatore di... la necessità di monitorare il prezzo nelle fasce orarie, eccetera. Il che naturalmente pone l'esigenza di un sistema informativo adeguato. Parliamo di questo. Cosa l'industria dell'ICT può offrire a questo rispetto? Buongiorno a tutti. Io ascoltavo con molto interesse gli interventi precedenti, non soltanto quelli degli operatori di utilities nel primo giro di tavolo, ma anche poi le voci anche diverse dei vari stakeholder e stavo pensando a come il mondo, questo mondo, stia cambiando rapidamente. Adesso dieci anni fa, dopo secoli in cui il modello elettrico era sempre uguale, abbiamo iniziato a parlare di telelettura. L'esperienza N è diventata leader mondiale, in Italia siamo diventati additati come gli innovatori, come quelli che erano all'avanguardia in questo settore e sembrava che tutto il dibattito fosse sulla misura, cioè abbiamo una misura e quindi abbiamo un sistema intelligente. Poi cinque anni fa si iniziava a parlare di smag grid, dando per scontato la misura era risolta, poi oggi ancora sentiamo qualche critica, ma comunque ricordiamoci che in Italia siamo anni in luce avanti rispetto a tutto il mondo ancora oggi sulla misura e oggi il tema attuale di questo convegno è della smart utility, non è della smag grid. Tant'è vero che io di smag grid fino ad adesso, oggi, ne ho sentito parlare molto poco, anzi quasi per nulla, appena sottolineato, il problema della smag grid è come fare a gestire un modello bidirezionale di flusso di energia che prima non era previsto e che oggi serve. Oggi non si è parlato di questo, o almeno io non ho sentito parlare di questo fino ad oggi. Oggi ho sentito parlare di patrimonio immobiliare vecchio, ho sentito parlare di auto elettrica, ho sentito parlare di convergenza tra gas, calore, elettricità, nuovi usi elettrici, non ho sentito parlare di infrastruttura che fosse abilitante a questi servizi, ho sentito parlare dei servizi. Allora la domanda è, abbiamo già risolto il primo problema, quindi la smag grid già ce l'abbiamo e stiamo pensando ai servizi, oppure c'è un mondo che va a velocità diverse? Credo che sia un mondo che va a velocità diverse. Allora il mondo tradizionale dell'autitis è sempre stato molto cauto, molto lento per due motivi, primo perché è un'industria molto asset intensive, quindi gli investimenti sono grossi, i tempi sono lunghi, abbiamo sentito parlare moltissimo di progetti finanziati che hanno dei cicli anch'essi di attuazione estremamente lunghi e quindi comunque il ciclo di vita dell'innovazione è per sua natura lento e poi abbiamo un mondo dell'informatica perché il connubio tra elettricità e informatica è quello che dà la smag grid, c'è questa convergenza tra due industrie diverse, il mondo dell'informatica invece va a una velocità che brucia le tappe. L'anno scorso si parlava in settore informatico di cloud computing, si parlava di analytics, di business intelligence, oggi se andiamo a un convegno di informatica pura, parliamo di mobile, di social network e così via, quindi ogni anno c'è una nuova moda, anche forse troppe. Il mondo reale credo che poi vada a metà strada, cioè sicuramente screma molte delle moda dell'informatica, anche delle terie, però sta sicuramente sollecitando le aziende utili di andare in maniera molto più veloce di come si è andata fino ad oggi. Allora, dal punto di vista dell'information technology, cos'è che possiamo dire? Possiamo dire che l'informazione, la gestione dell'informazione, non della misura, ma dell'informazione può aiutare in questa trasformazione. Io ricordo sempre con molta sorpresa positiva che quando il contatore elettrico dell'Ene è stato installato le prime volte in case italiane, è subito nata una polemica molto aspra con i consumatori che vedevano in questo nuovo mezzo tecnologico un modo indiretto per forzare il cambio, diciamo, di contratto a una potenza superiore perché lo strumento nuovo era più sensibile, più preciso, più corretto, però innescava tutta una serie di problemi collaterali. Ecco, la sola possibilità di gestire da remoto questo contatore e adattarlo a una nuova politica non solo ha sicuramente appianato la discussione, ma anzi ha innescato una reazione molto positiva nell'opinione pubblica che ha visto in questo strumento una promessa di, diciamo, di innovazione reale, che poi magari ancora oggi non è completamente attuata, però sicuramente è stata ricepita in maniera positiva. Quindi la gestione intelligente delle informazioni, dei dati, permette di orientare politiche anche diverse da quelle che sono stati, diciamo, l'iniziale disegno su cui si era partiti nell'implementare le soluzioni. E questo mi sembra che sia ancora oggi il caso, cioè oggi il compito di definire qual è l'aiutità del futuro è un problema dei regolatori, un problema politico, un problema dei distributori, un problema degli utenti finali, sicuramente non è dell'information technology. Qualche noi dobbiamo permettere è di garantire qualunque sarà una decisione di domani, che sono diverse da quelle di oggi e sicuramente, avete già toccato un mano, diverse da quelle di ieri, possano mantenersi. Allora, due considerazioni, tanto per dare concretezza a questo ragionamento. Se io penso alla Smagrid in senso stretto, quindi diciamo dal punto di vista proprio fisico, l'abilitazione a quei servizi di flusso energetico bidirezionale o comunque più articolato, dov'è che oggi possiamo e dobbiamo continuare a dare un supporto? Certo non nella parte fisica di installazione dell'infrastruttura, però tutto quello che è il dominio, per esempio, della sicurezza di questa infrastruttura è un patrimonio dove l'information technology può e deve fare tantissimo. Le reti devono essere sicure, dovrebbero esserlo prima, lo devono essere a maggior ragione oggi. Con la convergenza dell'information technology ed operation technology, il problema della cyber security è diventato un problema centrale e noi ci stiamo cercando di attrezzare per poter supportare questo tipo di problematica. Molto dietro le quinte, non è quello che l'utente finale vede, ma indirettamente è quello che si sta risolvendo, si sta indirizzando ogni volta che la lampadina ci si accende in casa nostra, che sia per leggere la sera oppure per avere la ricarica dell'auto elettrica. Ecco, su questo diciamo che gli impegni nostri sono sui svariati tavoli, siamo sui tavoli della Commissione Europea, siamo sui tavoli dell'ENISA, dell'European Network Infrastructure Security Agency, per decidere insieme quali sono le modalità, le tecnologie e le metodologie che bisogna attuare per poter garantire questa sicurezza e quindi definire le linee guida degli sviluppi del Smart Grid. Siamo su progetti operativi con TSO, con aziende da trasmissione, da distribuzione anche in Europa, che ovviamente per sicurezza non possiamo citare nominalmente, però che stanno facendo studi molto avanzati insieme a noi per valorizzare cosa? Le informazioni sono i dati a disposizione per interpretare cosa sta succedendo in termini di sicurezza. Pensiamo soltanto a questo, che poi non è soltanto quella di sicurezza della rete, ma è anche uno strumento potenzialmente di conoscenza del cliente, commerciale. Noi diamo per scontata la misura, è che sia corretta, ma con le tecnologie di oggi è possibile alterarla, questa misura. Allora solo l'incrocio di più dati, di più informazioni, ci possono permettere di comprendere se il dato di misura a cui noi facciamo affidamento è un dato corretto oppure no. Quindi la possibilità di incrociare il dato, la somma dei consumi a livello di utenza, con quelli della cabina, il famoso bilancio energetico, piuttosto che le informazioni che arrivano dai sistemi SCADA, piuttosto che le informazioni che arrivano dai menti esterni, sono tali che mi permettono di sapere se effettivamente questo misurando è corretto, se non ci sono alterazioni al sistema. E questa è una prima dimensione che riguarda se vogliamo proprio il cuore di quello che dovrebbe essere il compito di una smart utility, cioè assicurare che ci sia una rete che funziona. L'altro aspetto, e vado velocemente a chiudere, che è stato toccato diverse volte negli interventi precedenti, è quello della convergenza. Cioè le stesse dati, le stesse informazioni provenienti da fonti diverse, oggi si sta capendo che sono la chiave per avere successo, per poter rispondere alle domande del mercato e per avere anche degli investimenti sostenibili. Quindi quando parliamo di convergenza, parliamo quindi sostanzialmente non soltanto più del mondo elettrico da solo, il mondo elettrico più gas, più calore, parliamo di quello che Ingegner Capra aveva citato stamattina come l'integrazione tra smart utility e smart city. Dovunque oggi ci guardiamo intorno, nell'ambito dei servizi che abbiamo a disposizione, diventa essenziale poter mettere in frattore comune fonti di informazione di dati provenienti da ambiti diversi. E da questi costruire l'intelligenza, costruire la comprensione, costruire le linee guida su cui poi basare le scelte politiche, regolatorie o di investimento delle utilities. Ecco, su questo qui noi poi oggi pomeriggio avremo anche un esempio di un progetto particolare al sincretivo dove stiamo lavorando proprio in ottica di integrazione e convergenza tra vari settori. Aggiungo soltanto che quello che sono citato stamattina, convergenza tra elettrico, gas, calore, a livello di misura, per noi è già una realtà. Cioè noi oggi abbiamo delle soluzioni che permettono di fare una telelettura integrata di più servizi. Quindi non stiamo parlando di futuro e la dimostrazione ancora oggi che la tecnologia già è presente e che aspetta solo di essere messa a servizio di chi deve fare delle scelte più impegnative in termini temporali e in termini ovviamente economici. Scusi, se posso sollecitare su un'ultima cosa? Una curiosità. Ha detto, è possibile alterare i dati di misura? Ma puoi fare un esempio? In che senso? Accidentalmente o intenzionalmente? In tutti e due modi ovviamente. Direi che da che il mondo è mondo, come dire, ha fatto la legge, ha trovato l'inganno, ha fatto lo strumento tecnico, c'è il modo per aggirarlo. Con il contatore tradizionale c'erano alcuni modi, con il contatore modello non ci stanno altri, per moristare comunque ci sono sempre i guasti, gli errori che di per sé non possono essere rilevati, sennò con la comprensione che il dato che ritorna non è un dato che logicamente è corretto. Quindi non sto pensando a nessun tipo di tecnica specifica, ma è come direi nel naturale corso delle cose che qualunque dispositivo tecnico prima o poi ha delle debolezze intrinseche che possono essere superate. E questo non si può risolvere a priori in se stesso va, come dire, in termini generali affrontato da un punto di vista sistemico, quindi di controllo. La famosa tabellina, la prova del 9, è quello, il concetto è sempre quello, di poter verificare che qualunque dato che uno assume per certo sia effettivamente sempre di valore, sempre attuale. Grazie. Questa domanda mi torna utile perché ora volevo interpellare Michele Governatori, presidente di IGET, Associazione Italiana Grossisti, di Energia e Trader, che sul tema della misura ha delle idee molto precise, sul tema della misura in particolare della disponibilità dei dati di misura. Quindi una cosa che mi interessava sapere è che genere di aspettative o di speranze ha un soggetto come IGET e gli associati di IGET rispetto allo sviluppo di questo tipo di tecnologie. Grazie Jonathan. Buongiorno a tutti. In realtà molte delle cose, tu dici precise, spero, che in mente la rubiate Dario Di Santo, perlomeno dal punto di vista retail, il suo punto sulla contendibilità, più che della contendibilità, sull'accessibilità delle informazioni già esistenti sulle misure, secondo me è veramente centrale. Io dal punto di vista retail, come molti che siamo qua, siamo nel settore che la mia bolletta la guardo, mi diverto a guardarla, io ho il contatore teleletto di Acea che è, come diceva Dario anche nel mio caso, a quattro piani di distanza dal mio appartamento, però io ci vado ogni tanto a guardarlo, ma sarebbe un oggetto molto più utile a me se intanto il mio venditore lo usasse peraltro, oltre a semplicemente calcolare quanto consumo le due fasce e per fare, credo, una lettura a fattura, se non sbaglio, se interpreto bene la bolletta, poi qui ci sono persone in grado di smentirmi, di correggere, mentre le sue potenzialità sono molto più interessanti, per esempio riguardo la mia punta di consumo, o per esempio riguardo la possibilità di interfacciarlo con sistemi anche semplici di domotica, di gestione intelligente dei miei appliances, dei miei elettrodomestici. Ecco, quindi è un peccato dal punto di vista retail, ma la stessa cosa credo si possa dire anche per quanto riguarda le aziende. Allora, se ci sono delle appliance che permettono di avere una visione abbastanza istantanea e abbastanza sofisticata di come il consumatore finale consumi, occorre che questa informazione sia resa il più possibile contendibile. Quindi io adesso non mi avventuro nel dire che l'attività di misura debba essere separata per esempio da quella di distribuzione, ritengo che sia anch'essa un monopolio naturale, mi pare ragionevole ipotizzare che sia questo, potrebbe non essere necessariamente collegata a quella di distribuzione, sicuramente però un third party access alla misura è un punto in cui forse il design attuale del mercato fa un po' acqua, così come dal punto di vista dei venditori professionali di energia è ancora più grave non avere un accesso efficace, omogeneo per i diversi distributori ai dati di misura dei propri punti serviti. Questa è una cosa su cui ci sono dei miglioramenti per la verità, ma che continua a essere molto costosa per gli operatori. Non dimentichiamo che un venditore di energia che faccia il puro venditore, poi molti oggi hanno ricordato che il servizio va arricchito, che ci sono servizi premium, l'efficienza ed è sicuramente così, però se ci mettiamo nel business di un puro venditore che compra l'ingrosso e vende attraverso, passando ovviamente anche attraverso la rete di distribuzione per lo più ai suoi clienti finali, il margine è naturalmente minimo e la possibilità di interfacciarsi in modo efficace con i sistemi informativi dei distributori per l'accesso tempestivo ai dati di misura è decisivo per fare efficienza nella filiera e sarebbe utile invece per fare quei servizi a valore aggiunto, per esempio aiutare i propri clienti a risparmiare, avere accesso a dati ulteriori rispetto a quelli che ci sono. Quindi, riassumo, la contendibilità ai dati di misura sicuramente, come diceva Di Santo, secondo me è un punto in cui forse non manca nulla dal punto di vista hardware o forse manca qualcosa, ma non tanto, è un punto importante. E poi la possibilità, il level playing field per un operatore della vendita non integrato con un distributore, nell'avere accesso con la stessa prontezza ai dati di misura ai quali hanno accesso gli operatori un tempo integrati, ancora proprietariamente integrati con i grandi distributori, è un altro punto nel market design che secondo noi è critico. Per questo, pur essendo IGET non un fan del ruolo di acquirente unico come grossista di Stato, che secondo noi non sarà necessario in futuro, tant'è che noi nemmeno riteniamo necessario mantenere la tutela così com'è, ci interessa moltissimo invece il ruolo di acquirente unico come garante della terzietà dei distributori rispetto ai retailer, anche piccoli, nell'accesso ai dati di misura e in qualche caso anche ai dati anagrafici dei clienti e, come nel caso del sistema indannitario, nell'accesso, sappiamo che oggi il sistema non è piaciuto agli operatori, è bloccato, ma che ci sia un operatore terzo che permetta ai venditori potenziali e già che stanno servendo il cliente, di avere informazioni tempestive, affidabili, unbiased, su come paga un cliente, beh, anche questo è un elemento di miglioramento dell'efficienza del settore, che secondo noi grossisti e trader tipicamente non integrati con gli operatori della distribuzione, in qualche caso sì, è un punto critico. Immagino che non ci siano limitazioni, drago di ordine tecnologico, a fare quello che sta dicendo il governatore. Assolutamente no. Dunque, completiamo il giro della tavola rotonda. Paolo Manzoni, Feder Utility, nonché rappresentante ricerca e innovazione di A2A. Mi chiedevo dal punto di vista della riflessione interna a un'associazione di imprese, come si declinano questi temi che affrontavamo ora. Grazie. Permettetevi intanto di darvi i saluti di Adolfo Spaziani, che avrebbe dovuto partecipare. Purtroppo all'ultimo ha dovuto rinunciare, quindi mi ha chiesto di sostituirlo. Io sono appunto Paolo Manzoni, lavoro in A2A come responsabile di ricerca e innovazione, da poco, nel senso che precedentemente, diciamo dalla nascita del gruppo, ho avuto la posizione di direttore Information Communication Technology, quindi più il fronte, se vogliamo, ICT legato alle attività tradizionali, ma anche legato al mondo dell'utilizzo dell'ICT nel campo delle smart grid, per esempio. Bene. Allora, direi che oggi abbiamo sentito il parere di molte persone autorevoli, operatori autorevoli, soprattutto nel campo della distribuzione, chiaramente il settore dell'energia vede anche molti altri operatori, quindi le aziende che qui sono rappresentate a volte appartengono, come per esempio nel nostro caso, a un gruppo più ampio che comprende anche società che operano negli altri ambiti del settore energia e che sono comunque soggetti altrettanto importanti da coinvolgere per far sì che poi l'insieme del settore possa portare valore. Vorrei provare a condividere con voi tre concetti che mi sono costruito man mano che sentivo gli interventi e a cui ho associato tre parole chiave che enuncio subito e poi provo a declinare. Il primo è buonsenso, o senso della misura, senso delle proporzioni. Il secondo è competition. E il terzo concetto, lo dico in inglese perché non mi viene come tradurlo, è multi-side business model. Intanto buonsenso, cosa vuol dire senso delle proporzioni? Qui intanto abbiamo avuto rappresentanti di realtà che sono di dimensioni diverse e in Italia ovviamente ci sono operatori di diverse dimensioni, anche più piccole di quelle che oggi sono state rappresentate e questo significa che le potenzialità poi di interagire, di investire, di essere incisive, diciamo singolarmente in questo contesto, sono ovviamente molto diverse. Peraltro vale anche in altri concetti, vale anche nelle cittadine. Parliamo di smart city ma è ben diversa una smart city applicata a un contesto come Milano e Roma, cioè città grandi, metropolitane, rispetto alle diciamo svariate decine di città di dimensioni più piccole che però sono presenti sul nostro territorio e che hanno tutta un'urbanistica, tutta un modello anche di architettura e di edifici completamente differente. Quindi non è una ricetta unica ma è una ricetta diversa. Avere il senso delle proporzioni, il senso della misura ci deve aiutare anche a non commettere alcuni errori che sono stati anche raccontati. L'eccesso di spinta verso una soluzione, hanno parlato ad esempio del fotovoltaico, e beh attenzione perché un eccesso in generale rischia di portare delle conseguenze, di fatto oggi le stiamo vivendo. È vero che si sono create delle condizioni, come dire, al contorno che hanno purtroppo determinato questo fatto. Però indubbiamente forse aver già raggiunto degli obiettivi che sono in realtà al 2020 è stato un eccesso che potevamo eventualmente valutare con un approccio più misurato in termini anche di gradualità nell'investimento del fotovoltaico, eccetera. Il senso della misura e il senso delle proporzioni significa anche non sottovalutare gli altri. Noi apparteniamo all'Italia, ma l'Italia appartiene all'Europa. Ma l'Europa, ormai il mondo è globale. Guardate che vi racconto un aneddoto. Qualche anno fa sono venuti una delegazione cinese di una piccola, piccolissima, società di distribuzione della Cina, in visita e gli abbiamo raccontato quello che facevamo in Italia noi come distributori nel campo del metering. Gli abbiamo fatto vedere il nostro contatore e hanno detto «Ah sì, quello lì mi pare che lo costruiamo noi». Poi gli abbiamo detto «Ma noi gestiamo qualcosa come 2 milioni di contratti». Mi hanno guardato male. Se sono guardati tra di loro, hanno un po' riso e hanno detto «Avete qualche domanda?». No, è che noi abbiamo 42 milioni di contratti. Cioè è una piccola società di distribuzione della Cina. Allora il senso delle proporzioni è importante averlo perché questi soggetti adesso comprano magari conoscenze e tecnologia da noi ma nei prossimi anni svilupperanno anche loro le loro competenze, non solo fabbriche ma anche competenze. Hanno programmi di sfornare centinaia di laureati, centinaia di migliaia di laureati, milioni di laureati nei prossimi anni. Quindi non sottovalutiamo il contesto globale in cui viviamo. Quindi primo aspetto, senso delle proporzioni, senso della misura che riassume in buon senso. Secondo aspetto, competition. Competition, che è una brutta parola, che unisce collaborazione e competizione, a mio avviso può essere invece molto importante come approccio da tenere per le aziende. Perché bene o male tutti quanti stiamo lavorando, tutte le aziende sono impegnate, con più o meno difficoltà, in più o meno progetti. Uno dei problemi che tutti abbiamo è comunque quello comune del finanziamento, ma anche di comprendere come fare sinergie, come implementare i modelli di business. Fare competition significa superare, dal mio punto di vista, per come lo interpreto io, nel nostro contesto, superare quelli che possono essere dei limiti, fatemi dire, un po' culturali italiani, di campanilismo, che di solito tende a metterci in un eccesso di competizione locale dal punto di vista, come dire, della protezione del proprio know-how, del proprio progetto, e ci fa perdere magari delle opportunità di collaborazione che possono invece consentire di avere quella massa critica che effettivamente giustifica eventualmente determinati investimenti o, nel caso specifico, per esempio, la cattura di finanziamenti europei, che sempre di più richiedono la capacità di lavorare in squadra, di creare dei cluster, di lavorare con delle catene di aggregazione di soggetti, che siano di varia natura, che siano in grado di portare a dei progetti importanti, dei progetti significativi, dei progetti che abbiamo visto siano di dimostrazione, ma su scala sempre maggiore. Quindi un approccio di competition basato sulla capacità di unire a un rispetto delle aree, diciamo, di competizione reciproche, una capacità di collaborazione. E la terza, diciamo, la terza affermazione che dicevo prima, che ho ripreso, diciamo, da questo termine inglese, multisite business model, potrebbe essere un po' la chiave di volta. Che cosa significa multisite business model? Vi dico, cerco di spiegarvi, diciamo, per come l'ho capito, per come l'hanno rappresentato, con un esempio che mi sembra abbastanza semplice, in un settore completamente diverso. Se voi pensate alla società di software Adobe, che distribuisce il reader, l'acrobat reader che tutti abbiamo sul nostro computer, è una società che lo distribuisce gratuitamente. E lo distribuisce a milioni, centinaia di milioni di utenti. Come fa a stare in piedi un'azienda che distribuisce un software che comunque viene costantemente aggiornato in maniera gratuita? Lo fa perché ha messo in piedi un modello di business che sfrutta una collaborazione tra più soggetti verso il cliente. Il servizio che è dato al cliente è molteplice. Da un lato serve per leggere contenuti e dall'altro serve per creare contenuti. È un altro software che serve per creare contenuti. Chiaramente quello che serve per creare contenuti è a pagamento. In un certo senso, nella piattaforma multisite, cosa succede? che la piattaforma centrale dà al cliente un servizio attraverso un componente che è gratuito, ma più clienti hanno questo strumento gratis e più clienti potranno quindi leggere quei contenuti. Se più clienti leggono quei contenuti vuol dire che ci saranno più operatori che producono contenuti interessati a produrli e quindi interessati a comprare il software per produrlo. E quindi questo è un modello che si autoalimenta dove tutti concorrono alla fine a farlo crescere. In mezzo a chi ci sta? Ci sta Adobe che fornisce sostanzialmente entrambi una soluzione per poter crescere. Allora, questo modello potrebbe effettivamente essere un'impostazione da studiare anche nel contesto diciamo degli utility superando quindi l'approccio merchant tradizionale che vede singolarmente la singola utility nei confronti del singolo cliente ma cercando delle soluzioni che effettivamente rendono possibile poi dei modelli di business sostenibili per offrire altre cose. Quali cose? Ne abbiamo sentito parlare. Per esempio i servizi di efficienza energetica. E qui permettetemi di fare una considerazione. L'energia pulita costa di più. Costa di più. Allora dobbiamo dirlo chiaramente ai clienti. L'energia pulita costa di più. Se vogliamo l'energia pulita costa di più. e quindi da questo punto di vista bisogna ragionare probabilmente in termini di recupero di efficienza. Allora servizi di recupero di efficienza possono dare come dire un valore aggiunto in termini di riequilibrare la situazione. Ci saranno soggetti che potranno dare questi servizi soggetti che potranno dare supporti a questi servizi ad esempio la misura. Ciò che non si misura non può essere migliorato. La misura può essere un elemento quindi di aggregazione attraverso il quale è creare dei modelli di business multiside. E quindi qui concludo dicendo che a mio avviso il termine smart fatemela dire così dobbiamo un po' riportarlo sul suo vero significato sul vero valore cioè intelligenza è tradotto anche come furbo approccio furbo io lo do alle diciamo agli esseri viventi alle persone quindi alla comunità non lo do alle macchine non lo do agli elettrodomestici noi possiamo dire che abbiamo introdotto tanta tecnologia negli elettrodomestici tanta tecnologia nelle reti questa tecnologia è disponibile questa tecnologia dobbiamo usarla dobbiamo forse adesso a livello anche di impostazione di modelli di business usare di più la nostra intelligenza per identificare dei modelli che siano effettivamente sostenibili e vincenti grazie allora io direi prima di tutto se ci sono osservazioni o domande dalla platea in realtà vado sulla stessa linea dei colleghi ma cercando di non essere scortese direi che è una domanda quasi malposta perché non è importante chi lo fa il fatto è che io l'ho presentato come una sfida nel senso che le utility la vivono come una sfida ma ovviamente è una sfida che è presentata come una sfida alle utility da chi? dall'associazione europea delle utilities per cui non può parlare per qualcun altro però è chiaro che l'offerta di quel tipo di servizi basato su un tipo di informazione potrà secondo me in breve tempo essere offerta da molti più operatori che non dovranno necessariamente essere le utility però ritorniamo a capo a 12 basta capire chi paga perché per arrivare a quel tipo di condivisione dei dati sarà anche facile dal punto di vista informatico ma c'è alle spalle un costo non indifferente che se viene posto che se viene messo se non viene affrontato ipotizzando quel processo di sviluppo che porti cioè ipotizzando sindora che porti a un'apertura del mercato di quel tipo di servizi e che quindi porti a sindora a una condivisione dei costi se ne ritarda per la partenza semplicemente però poi dopo che lo faccia è nel distribuzione o era è rilevante oppure gli amici di ijet poi dopo dal punto di vista del consumatore finale è rilevante magari dal punto di vista dei contributi che pagano a se elettrica è molto importante ma questo qui non interessa insomma direi scusate però aggiungo solo una cosa posso detto che la problematica è complessa e poi va affrontata in tante parti ma nella fattispecie a livello di misura stiamo parlando solo del fatto che esiste già una delibera europea e locale che dice che il cliente dovrebbe fruire in loco in casa diciamo dei propri dati di consumo e il retailer che gli offre l'energia dovrebbe pure a sua volta fruirne quindi francamente vuol dire solo portare diciamo leggere il contattore di nuova generazione dell'energia nella casa degli italiani da diversi anni e trasferire con tecnologia di bassa oggi ormai bassa qualità e basso costo tendenzialmente i dati su una piattaforma da quale fargliela visualizzare quindi voglio dire poi dopo ne parliamo ancora dopo ma questo specifico tema è un tema secondo me ormai abbastanza semplificato e già abbastanza esistente se non forse che gli manca un'abilitazione finale rispetto alle tecnologie di cui disponiamo tutti manca purtroppo la delibera attuativa nel senso che è stato detto in Europa bisogna farlo in Italia l'autorità ha fatto una prima dibattimento dicendo manifestazione di interesse e poi non è andata avanti quindi noi questa cosa la possiamo fare da dieci anni non la possiamo fare tutto qui questo è il peccato è l'assurdità della cosa condivido in pieno era solo per pesminare in questo caso la problematica degli investimenti e dell'evoluzione della rete che è un tema evidentemente come dire esistente nello sviluppo del business tra retailer e distributore ma secondo me rispetto a questo specifico area di business che si chiama misura e fruizione dei dati per il consumatore non trascina una complessità così elevata dal punto di vista tecnologico e di investimenti trascina solo che l'autorità faccia una delibera ecco è solo quello che dico benissimo due battute conclusive prego e usatevi Manzoni se vuoi sì c'è una resistenza in Italia molto semplice che noi abbiamo un sistema fiscale incostituzionale che fa l'induttivo sappiamo benissimo che è incostituzionale lo Stato dovrebbe controllare e non controlla i controlli sono fatti male quindi induce deduce e siccome le bollette diventano parte di questo gioco c'è un po' un problema politico non è che non esce così questo dispositivo so che i dati vengono raccolti comunque poi se uno riesce ad andare al Ministero delle Finanze e dire mo me li dai io però su questo proporrei una riflessione tra stakeholders a cosa ci servono questi dati perché noi personalmente già da qualche anno utilizziamo i dati nei motori neurali cioè nell'intelligenza artificiale non serve non è un sistema esperto non gli servono tutti i dati gli servono pochissimi a campione ma vi spiego qual è l'utilità noi abbiamo visto che se abbiamo i dati di energia telefono gas eccetera eccetera e lo mettiamo in un cervello che voi sapete penso per la vostra cultura tecnologica dobbiamo istruire a pensare perché lui pensa e noi lo dobbiamo istruire con questi dati con dei dati a campione non ci servono tutti lui ci dà la simulazione di un intero territorio cioè questi dati sono di una preziosità mostruosa e per noi è un danno per tutto il territorio il fatto che siano stoppati da qualche parte allora io chiedo un intervento ecco la fondazione comune a fare dei noi siamo prontissimi ci siamo rivolte a un italiano che è uno dei massimi esponenti mondiali dei motori neurali non c'è nessun problema con costi anche relativamente contenuti si fanno dei database previsionali che è quello che serve a tutti noi perché poi il business non c'è se un territorio non sviluppa e siccome le infrastrutture sono un elemento che dovrebbe accompagnare in modo intelligente là dove sviluppa un territorio e su quali tipi di settori credo che questa è una collaborazione di stakeholders che sarebbe di grande significato in attesa che il sistema fiscale italiano decida che vuole fare con questi dati grazie 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 grazie